come un pastore che intaglia il suo bastone brancusi ubbidisce a un istinto della forma che da un ritmo al suo gesto e alla forma che nasce attribuisce un senso la rende simbolica e sembra l'uomo di un passato protostorico che proietta le sue pietre nella modernità più assoluta costantino brancusi il bacio scultura in pietra renaria parigi cimitero di montparnasse ammazza l'affascinante avventura delle sculture di modino nell'autunno del 1909 avende iniziare la sua affascinante avventura nel magico mondo della scultura un'avventura che durerà quattro anni in seguito a causa di problemi di salute sempre più pesanti non riusci più a lavorare con la pietra perché era troppo faticoso per lui